Benvenuti al video Questa è una presentazione del prodotto set di personaggi melancoli of Harui Prodotto da Max Factory marca Jack Isola Malinconia di Harui Suzumiya Nagato Yuki Ver Dimensione corporea Altezza Circa 200 mm Boy Front Et A partire dall'et Di 15 2006 flusso Tanigawa Noizito SOS Squadra Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti Clicca sul link nella descrizione sottostante Grazie per la visione